Ogni anno i numeri che ci arrivano dall'Istat sono peggiori rispetto all'anno precedente. E ci dicono una cosa precisa, in Italia nascono sempre meno bambini, pensioni, l'allarme di Giorgetti. Nessuna riforma tiene con questa natalità. Infatti in Italia, come stavamo dicendo, nascono meno bambini. Alle ben note cause economiche e sociali dobbiamo aggiungerci la paura del futuro, un futuro sempre incerto, le guerre, le pandemie. Allora colleghiamoci con Alessandro Rosina, docente di demografia all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno, in collegamento da Milano. Abbiamo, come vedremo nel corso della puntata, anche dei dati, dati che comunque sono molto allarmanti. Allora la domanda è, non c'è più il desiderio di far figli perché abbiamo veramente questo futuro così incerto, abbiamo questa paura, quindi la paura mettiamoci anche la guerra in Ucraina, mettiamoci la guerra in Medio Oriente. Beh, buongiorno. Sì, tutto questo pesa molto perché la scelta di avere un figlio è oggi molto meno scontata che in passato e quindi è una scelta anche molto più meditata, più consapevole e quindi per uscire dalla sfera di indecisione che la blocca, in cui è spesso bloccata, ha bisogno non solo di condizioni oggettive favorevoli, però anche di fiducia. È la scelta che si fa nel presente e che maggiormente impegna verso il futuro e quindi non è solo questione di farli nascere i figli, si desidera soprattutto vederli crescere in un contesto positivo, di sicurezza, di opportunità e invece tutto quello che aumenta l'incertezza, l'insicurezza, che produce instabilità, tende a frenare questa scelta, a lasciarla in sospeso anche quando è desiderata e sicuramente la preoccupazione per la salute del pianeta, per le pandemie impreviste, le guerre senza soluzione, è senz'altro non aiuta. Allora, professore, guardiamo insieme anche questa grafica dove dicono allora praticamente abbiamo nel 2022 sono nati 393 mila bambini, il 31,8% in meno rispetto al 2008, quindi veramente tanti? Troppi? In meno, sì. In effetti è un crollo particolarmente consistente, il peggiore in Europa. Vuol dire che non solo l'Italia è da molto tempo in crisi demografica, cioè da oltre 40 anni sostanzialmente non riesce ad avere un numero di figli che consente il rinnovo generazionale, ma soprattutto dopo l'impatto della crisi finanziaria ed economica del 2008, è aumentata la percezione di insicurezza di giovani e famiglie. Ricordiamoci il forte aumento del tasso di disoccupazione giovanile in quel periodo che è rimasto poi comunque a livelli record in Europa fino all'impatto della pandemia. E a livelli record poi è diventata anche l'età in cui si inizia a fare il primo figlio che anche questa si è consolidata tra i valori più alti in Europa. Poi l'Australia ti... Ecco, tra l'altro cerchiamo anche di capire le manovre, le manovre del governo per il primo, il secondo e il terzo figlio. Intanto ci ha raggiunto in studio Corrado Chiominto, giornalista economico dell'ANSA. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, stavamo dicendo il calo delle nascite riguarda veramente tutti. Abbiamo quindi questa incertezza che si trasmette ovviamente anche... più si va avanti e più aumenta anche la paura, la preoccupazione. Allora, il fattore di cui abbiamo parlato anche qui in studio qualche settimana fa è il fatto che come fa poi a reggere tutto il nostro sistema a livello nazionale se non ci dovessero essere nascite, calcolando che le persone però aumentano poi alla fine. Certo, c'è un problema reale per le pensioni e per la salute perché oggettivamente più si fa anziani e più si usa... diciamo c'è bisogno dei medici e più si fa anziani e meno ci sono lavoratori. Per esempio, la Fondazione di Vittoria della CGL stima 7 milioni di lavoratori in meno nei prossimi vent'anni e circa 5 milioni in più di pensionati. Il rapporto tra persone attive e persone che sono in pensioni chiaramente è importantissimo e sta diminuendo. Ci sono 39 province in Italia dove ci sono più pensionati che lavoratori. A Reggio Calabria ci sono 67 lavoratori su 100 pensionati. Il rapporto di equilibrio al momento è 1,4 lavoratori per ogni pensionato e bisognerebbe avere almeno uno e mezzo di lavoratore per ogni pensionato. Nel 2050 si pensa che in Italia ci sarà un lavoratore e un pensionato e chiaramente il sistema avrà difficoltà a reggere. Lei non ha la bacchetta magica però la domanda che le faccio è come potrebbe cambiare da adesso in poi. Qual è la soluzione? Che cosa possiamo fare? Anche perché leggevo sul giornale che gli ingressi, ad esempio anche il fatto di persone che decidono comunque di venire a vivere proprio in Italia anche loro stessi poi decidono comunque di non far figli. Certo, allora lì il problema è che bisogna favorire la crescita, la natalità che comunque ha un impatto nel lungo periodo, non nel breve e per fare questo bisogna dare certezze. Noi abbiamo ancora un problema di precarietà sul fronte del lavoro che fa sì che l'età adulta, quella in cui si fa famiglia e si cresce e si decide di avere figli arriva un po' più tardi. È un problema non solo culturale, ma proprio economico. E quindi se non si riesce a risolvere questo problema non si riuscirà mai a risolverlo. C'è un altro aspetto, per esempio c'è uno studio molto carino di Banca Italia che dice che se si va in pensione più tardi i nonni non potranno dare aiuto per la gestione dei nipoti e quindi i loro figli non faranno figli. Quindi si cerca anche questo. Quindi se nel caso in cui non ci dovessero essere i nonni in quanto stanno lavorando lo stesso studio decide di non far figli. Certo, quindi aspetta e quindi questo vuol dire che c'è un effetto boomerang anche per il fatto di rimanere di più in pensione sul fatto che ci siano meno bambini. Forse bisognerebbe lavorare un po' meno, però vedo che il professor Rosina un po' scuote la testa. Allora vengo da lei, intanto gli chiedo il perché. Non è proprio così? Diciamo che negli altri paesi le politiche di sostegno e aiuto alle famiglie con figli non arrivano dai nonni, arrivano da politiche efficienti, da servizi sul territorio. Teniamo presente che Svezia e Francia hanno una copertura di servizi per l'infanzia cioè dei nidi che sono fondamentali per la conciliazione tra lavoro e famiglia superiore al 50%, in Italia del 27%. Quindi non è che la fecondità in Svezia e in Francia è maggiore perché ricorrono di più ai nonni, ricorriamo noi di più ai nonni perché mancano quei servizi efficienti che consentono agli altri paesi di migliorare le condizioni economiche delle famiglie con un secondo reddito e di conciliarle con la possibilità di avere figli. È su questo che dobbiamo puntare. Professore, tra l'altro prima mentre stavo parlando lei ha detto anche che siamo fanalino di coda in Europa, quali sono i dati? Quello che ci caratterizza è questa peggiore combinazione che abbiamo in Europa tra bassa fecondità, dicevamo Francia attorno a 1,8, quindi nemmeno la Francia arriva ai due figli per donna che consentirebbero un equilibrio, però c'è una bella differenza fra Francia che è 1,8 media figli per coppia e l'Italia che ne ha 1,24. Ma in combinazione con questo siamo anche il paese con più alta percentuale di NIT, di giovani che non studiano e non lavorano e quindi in difficoltà a formare un nuovo nucleo familiare ed avere figli e anche con più bassa occupazione femminile perché ci mancano appunto le adeguate politiche di conciliazione. È questa combinazione di bassa fecondità, bassa occupazione femminile, bassa presenza dei giovani nel mondo del lavoro che sta penalizzando fortemente i progetti di vita delle persone stesse, soprattutto giovani e donne, ma anche appunto la possibilità di rispondere alla riduzione della forza lavoro potenziale con l'invecchiamento della popolazione con un aumento della presenza dei giovani e delle donne all'interno della nostra economia. Allora, veramente una risposta telegrafica, che faccio la stessa domanda a entrambi, perché diciamo che siamo 8 miliardi nel mondo, diciamo anche che le nostre risorse sono limitate, da una parte diciamo che dobbiamo far più figli, dall'altra diciamo che siamo troppi sul pianeta. E allora cosa dobbiamo fare? Prima da lei, professor Rosina. Beh, diciamo che siamo sia troppi che troppo pochi, dipende dalle aree geografiche, dipende dalle fasce d'età. La popolazione, la crescita della popolazione mondiale è concentrata soprattutto in Africa, ma in Europa, in altre aree del mondo, compreso la Cina, la popolazione non cresce più, è anzi avviata verso il declino. E rispetto alle fasce d'età, ad aumentare soprattutto la popolazione anziana, grazie alla longevità, d'altro lato però abbiamo un crollo della popolazione giovanile, soprattutto in Italia. Quindi non è tanto la crescita in sé, a cui dobbiamo guardare, ma l'intreccio tra squilibri demografici e generazionali, a cui dobbiamo dare risposte adeguate. La parola chiave è proprio squilibrio. Oggettivamente ci sono delle aree del mondo dove c'è una sovrappopolazione, mentre noi stiamo andando in un declino. i figli sono l'investimento migliore per fare per il futuro. E se pensiamo all'India e la Cina insieme... Anche se costano, oggi il Sole 24 Ore dice che ci sono il 15% in più per il primo figlio di spesa, però sono un investimento per il futuro. Torneremo su questo. Grazie, grazie professor Rosina, grazie per essere stato con noi.